Ha fatto un lavoro eccezionale, Moss, ma Gentile, da grande veterano, giovane veterano, era il momento giusto, il posto giusto. Taglio al sopracciglio intanto per Gentile, tanto sangue in campo per questo giocatore che in questo momento viene fischiato dal pubblico del palaestra. Sicuramente non è un bel gesto nei confronti di un giocatore che era stato attaccato per un Twitter che... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!